Musica Campagna elettorale ormai alle porte, pronto ai nastri di parterza, Carmine Brandi che questa sera a Hotel Villa Iole presenta la sua candidatura a un momento importante per la città di Carovigno che insomma torna al voto prima della scadenza naturale del mandato Miele. Intanto benvenuto su Valle di Trianotizie e partiamo subito insomma da questa candidatura. Una candidatura la mia voluta dal basso, voluta dalla gente. Mi sento addosso già il peso e la responsabilità di dover dare delle risposte a questa città che in quest'ultimo periodo è stata vessata e martoriata. Mi sento addosso a questa responsabilità ma mi sento già pronto a poter andare avanti per risolvere le tante problematiche che ci sono in questa cittadina. Il Movimento Scrittulli, Fratelli d'Italia, Forza Italia, la Puglia prima di tutto, quello che sarà il Movimento di Fitto. Ci sono altre liste civiche già pronte per poter scendere in campo. Sicuramente si inizierà a parlare di programmi. In sommi capi quali i primi punti da affrontare per il bene comune di Carovigno? Proprio il bene comune. Legalità, trasparenza, amministrazione partecipata, codice etico. Aderirò subito alla carta di Pisa che è il codice etico per gli amministratori locali. Ci tengo molto a questo e sarà il primo atto laddove io dovessi diventare sindaco. E il suo sapere ascoltare.